Le mafie sono sempre più infiltrate nell'economia e ora puntano ai fondi per l'emergenza Covid, l'allarme della Direzione Investigativa e Antimafia. Sentiamo Gabriele Lobello. La Covid Economy è la nuova frontiera delle mafie che ora potrebbero puntare sul PNRR. È uno degli allarmi lanciati nella relazione semestrale della DIA. Le mafie sono in un momento di sommersione, sono due omicidi in un semestre, ma invece si intensifica l'attacco alle attività imprenditoriali, aumentano le estorsioni e aumentano i reati di corruzione. L'Andrangheta è sempre più holding tra economia, politica e amministrazione e leader nel traffico di cocaina. Andrangheta che, come dimostrano recenti indagini, conta su 46 nuove strutture locali fuori regione, soprattutto in Lombardia e Piemonte, che vanno ad aggiungersi a quelle già note come in Emilia Romagna. In Sicilia nuove formazioni convivono con Cosa Nostra di Palermo, mentre a Trapani proseguono i rapporti con la massoneria deviata. La Camorra resta un'organizzazione eterogenea con forti capacità militari, mentre in Puglia si evolvono le mafie Garganica, Foggiana e Cerignolana. Organizzazioni che lavorano anche all'estero, come documentato dalla rete operativa antimafia Eton, di cui la DIA è capofila in coordinamento con Europol. Mafie che importiamo anche da Albania, Cina, Nigeria, Romania e Sud America. Resta alto l'interesse verso gioco d'azzardo e scommesse e nel contrabbando di prodotti energetici. Fondamentale dunque l'aggressione ai capitali illesciti, 287 milioni sequestrati e 181 quelli confiscati.